Verso la fine di dicembre del 2021, in orbita intorno alla Terra, è successa una cosa super segreta e anche incredibilmente affascinante. Una missione cinese lanciata a ottobre, chiamata Shijian-21, dopo aver fatto un po' di pratica con un altro piccolo oggetto che si è portato appresso, con delle braccia robotiche, si è avvicinata a un vecchio satellite ormai distrutto a 36.000 km dalla Terra, in orbita geostazionaria. Una volta arrivato lì, si è attraccata a questo satellite, l'ha preso, ha acceso i motori e se li ha portato via. Dove? Perché? Cosa significa tutto questo? Perché era segreto? Beh, ne parleremo oggi. Il satellite che abbiamo menzionato prima, quello ormai morto, si chiama Beidou-2G2. Fa parte di una costellazione cinese che è l'equivalente del GPS, chiamato Beidou. E' stato lanciato nel 2009, ma per un problema, per un qualche guasto, ha smesso di funzionare nel 2010. Da allora è stato sostituito da un altro satellite che va alla grande, ma questo in particolare era rimasto lì, in orbita, insieme agli altri funzionanti. E dato che sembra aver perso dei pezzi, forse qualcosa è esploso, magari del carburante che aveva a bordo, per esempio, in uno dei serbatoi, è rimasto troppo esposto al Sole, in una stessa posizione, poi è esploso. Comunque, dato che è un rischio per tutti gli altri satelliti in orbita, la Cina si è avvicinata con un satellite e l'idea era di prenderlo, perché ormai è un detrito spaziale pericoloso, e spostarlo e portarlo lontano da lì per non rischiare di distruggere altri satelliti. Non solo propri, ma anche di altri paesi. Ora, vi chiederete, vabbè, ma perché portarlo più in su? Cioè, 3.000 km ancora più lontano dalla Terra e non portarlo, per esempio, verso il Sole, così bruciare il Sole, oppure magari portarlo verso la Terra e così può distruggersi nell'atmosfera terrestre, bruciare e basta. Beh, in realtà è questione di energia. Quindi l'orbita a cui è stato portato, 3.000 km più in alto, è un'orbita di parcheggio cimitero. Una volta arrivato lì, lì non ci sono altri satelliti funzionanti, quindi non crea problemi a nessuno. È molto lontano da tutti gli altri satelliti che servono. Quindi, da questo punto di vista, è stato tolto di mezzo, in tutti i sensi pratici, per cui è l'equivalente di avere, non so, dei sassolini in orbita terrestre, non cambia niente, non è un pericolo per nessuno. Detto questo, in termini di energia, sarebbe costato molto, molto di più arrivare da 36.000 km di nuovo fino alla Terra. Quindi il satellite che devi lanciare per poterlo portare via dovrebbe essere molto più grande e a quel punto inizia a essere un costo piuttosto alto. E l'altro problema, verso il Sole, per esempio, è che il Sole, beh, è molto complicato arrivare al Sole. Serve un sacco di energia in più e non è così facile come sembra, perché devi cambiare tantissimo la tua velocità per cadere verso il Sole. La Terra si muove in orbita entorno al Sole a più di 30 km al secondo e quindi per riuscire ad andare verso il Sole devi cancellare una buona fetta di questa velocità e quindi richiede di nuovo un sacco di energia. Per cui, con un budget contenuto, con l'obiettivo di non danneggiare i satelliti e non essere un pericolo per gli altri, questa è la scelta migliore. Una volta arrivato lì, portarlo più in alto in un'orbita cimitero di parcheggio. E tra l'altro, per me, da storico, è molto affascinante perché i cimiteri sono pieni di cose interessanti per i storici. Quindi, insieme, immagino uno storico dell'esplosione spaziale nel 2500. Sarebbe fantastico pensare che una navicella spaziale di archeologi spaziali potrebbero passare da lì e ritrovare resti di vecchi satelliti che, visto che lì, potrebbero restare per migliaia e migliaia di anni senza problemi e poterli riportare a casa e studiare in dettaglio come era la tecnologia di cinque secoli prima, che è l'equivalente di avere ora la possibilità di studiare navi o dispositivi meccanici dei tempi del Rinascimento. Quindi, c'ha un suo senso, alla fine, come valore storico per il futuro. Ma, per adesso, concentriamoci su Shijian 21. Quindi, da questo punto di vista, è una missione molto responsabile. Da parte della Cina, che aveva un detrito spaziale pericoloso per sé e per gli altri, ha mandato una missione per rimediare e togliere di mezzo i detriti. Quindi, tutto bene, no? Sì, ma altre nazioni hanno avuto un po' da ridire per il fatto che la missione era tenuta così tanto in segreto. Quando fu lanciata non hanno dichiarato in dettaglio come è fatta, non hanno mostrato nessun modello di com'è di preciso questa sonda, non hanno mostrato foto di preciso. E quindi, in diversi hanno detto che il rischio è che, a livello militare, questa operazione potrebbe essere un modo per verificare se puoi fare lo stesso con satelliti funzionanti. Quindi, chi ti proibisce poi, dopo di andare a un satellite europeo, per esempio, o a Cosmos SkyMed italiano, che è stato da poco lanciato, e avvicinarti, prenderlo e spostarlo in orbita e magari lanciarlo verso la Terra e distruggerlo, no? Beh, in teoria, chi ti proibisce, c'è il fatto che non dovresti farlo, ma non c'è... Ovviamente sarebbe un atto di guerra, sarebbe la distruzione di un asset militare di un altro paese. Quindi, è vietato in questo senso. Però, ecco, dal punto di vista di preparazione a un eventuale conflitto nello spazio, più che laser che fanno più, più, sia la Star Wars, probabilmente questa è la cosa più vicina a come si combatterebbe nello spazio. Ci sono già diversi satelliti che si occupano di cose di spionaggio tra satelliti, e quindi, per fortuna, siamo riusciti a osservare questo satellite e vedere quello che fa, anche se era tenuto segreto dalla cena, grazie ad altri satelliti che si spiano tra di loro. Quindi, grazie ad altre informazioni, siamo riusciti a tracciare, ma anche in realtà con antenne amatoriali dalla Terra. Era possibile beccare il segnale in alcuni momenti e sapere di preciso quando si muove, dove si trova, a che velocità si muove, eccetera. Da questo abbiamo dedotto, appunto, che abbiamo visto il segnale di Beidou, cioè del punto esatto dove si trovava Beidou e il segnale di questa sonda avvicinarsi, e poi dopo abbiamo visto che la sonda ha cambiato la sua velocità con una lunga accensione del motore che l'ha portata a 3.000 km in su. Ma, altra cosa super affascinante, dopo, quando ha finito il lavoro, è tornata nell'obitaggio stazionaria. E sembra si sia avvicinato ad anche altri satelliti, sempre della cena. Quindi può essere che abbia fatto pratica con l'avvicinamento ad altri satelliti. Che tipo di pratica? Per cosa? Di nuovo, è facile quando sei nell'ambito militare essere molto, molto paranoico. Per alcune cose potrebbe essere esagerato, per altre cose potrebbe essere giusto come atteggiamento. Chi lo sa? E' giusto l'atteggiamento preventivo di prepararsi e essere pronti. Uno degli addaggi che viene spesso usato in questi casi è sperare nel meglio e prepararsi al peggio. E quindi questo sembra essere più o meno l'atteggiamento di tutti i paesi rispetto uno tra di loro. Ora, ci sono tante missioni di questo tipo. La cena non è l'unica che ha fatto qualcosa del genere. Anche gli Stati Uniti hanno fatto delle missioni di questo tipo. Questa categoria, diciamo, di satelliti sono quelli che vengono chiamati OSAM. Cioè, quelli in grado di fare OSAM. OSAM è una parolaccia. On orbit, cioè in orbita. Service. Cioè, servicing vuol dire tipo un intervento, tipo, che non so, prendere un satellite e alzarlo di orbita, oppure cambiare le batterie. Magari sei rotto un pannello solare e ti sei portato dietro un altro pannello solare. Quindi, riparazioni. Assembli, se vuoi un satellite che possa assemblare un satellite nuovo da nulla. Quindi, hai, si porti i pezzi e lo assembli nello spazio. Oppure, manufacturing. Quindi, servicing, assembly e manufacturing, tutto quanto on orbit. Per quello, on orbit, OSAM, O-S-A-E. Ok. Quindi, questi satelliti OSAM sono un obiettivo di tanti paesi. Incluso anche l'Unione Europea, che ha in mente di iniziare a lavorare a satelliti simili. I Stati Uniti hanno avuto due missioni così, chiamate MAV. La cosa curiosa è che la Cina, pochi anni fa, quando nel 2019, aveva, 2019-2020, aveva protestato alle Nazioni Unite del fatto che i Stati Uniti stessero cercando di militarizzare troppo alcune operazioni e aveva fatto una lista di cose militari americane nello spazio, in cui aveva messo anche le missioni MAV. Quindi, dal punto di vista della Cina, quello che gli americani avevano già fatto con le missioni MAV, di cui abbiamo, tra l'altro, le riprese, abbiamo delle foto splendide, le missioni che si sono avvicinate a un satellite, l'hanno catturato, l'hanno spostato, dal loro punto di vista, quella fu un'operazione potenzialmente legata a un ambito militare, che è la stessa cosa che viene vista ora dall'Occidente guardando verso le operazioni. La Cina, quando ha parlato di Xi'an 21 come missione, ha dichiarato che è puramente civile, l'obiettivo è solo assicurarsi di essere dei buoni vicini e togliere di mezzo detriti pericolosi. Ed è vero, cioè, al di là del fatto che potrebbero avere altri obiettivi o meno, comunque è stata una missione di buon senso civico nello spazio, mettiamola così, quindi di buon vicinato, visto che ha tolto di mezzo un detrito spaziale potenzialmente pericoloso per tutti. Quindi ci servono più missioni di questo tipo. Alla fine di tutto questo ragionamento, in conclusione, quindi, è una missione importante a cui mancava trasparenza e questo ha allarmato altri paesi. Quindi quello che ci serve per il futuro è più trasparenza, più dialogo tra le nazioni, in modo da essere chiari sugli intenti delle missioni che facciamo e cercare di abbassare le tensioni e non aggiungere tensioni laddove non serve. Il mondo è già molto teso, così com'è. Quindi sarebbe auspicabile per il futuro avere più trasparenza da parte di tutti i paesi. E capisco, però, che è una richiesta che funziona fino a un certo punto e a un certo punto è poi ingenua, visto che c'è un lato militare dietro perché difficilmente vorrà darsi alla trasparenza sui suoi obiettivi, ma comunque, insomma, un pochino più rispetto ad ora e aiuterebbe tantissimo a potersi coordinare e fare progetti di rimozione e gestione dei detriti spaziali a livello internazionale. In questo modo, quando una nazione vuole lanciare una missione per cambiare qualcosa a riguardo, cioè, magari rimuovere dei detriti o altro, potrebbe essere bello poterlo fare insieme, sia perché tutti spendiamo meno, ma anche perché è una garanzia di collaborazione, piuttosto che di obiettivi nascosti, loschi o altro. Quindi, secondo me, è una delle cose che aiuta a togliere tensione. Ad ogni modo, vedremo come sarà il futuro, per adesso siamo solo agli inizi di questi tipi di manovre, e fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa missione misteriosa della Cina che si posiziona sempre più con le stesse tecnologie necessarie a fare un po' di tutto nello spazio che hanno anche altri paesi. Al momento la Cina, quindi, ha infrastrutture spaziali degne di tutte le altre superpotenze, che sia l'Europa o la Russia o gli Stati Uniti. Quindi, da questo punto di vista, è un grande traguardo e spero che, spero che, appunto, possa essere un passo in più per la rimozione dei detriti, più che un passo in più per la militarizzazione dello spazio. Ci vediamo presto, grazie di cuore per aver visto questo video, un abbraccio fortissimo e continuate, come sempre, a essere meravigliosi. Sotto trovate il link per Patreon, se volete sostenere questo progetto, e trovate anche il link a Pumpling, dove con il codice ADRIANL4U potete avere magliette in sconto. E tutte queste magliette, che rendete, vi danno, tra l'altro, da parte i sconti, ma anche calzini gratis, che sono meravigliosi, e sul sito trovate anche felpe e tutto il resto. E prenderli aiuterà anche interettamente il canale. Quindi voi spendete meno e aiuta il canale a crescere, mantenersi e pagare per tutto questo. Quindi, grazie davvero di cuore, un abbraccio fortissimo, ci vediamo presto. Benvenuti nella Endcard con qualche altro piccolo aneddoto e volevo menzionare rapidamente l'importanza di missioni di questo tipo per la nostra idea di futuro fantascientifico in cui costruiamo cose gigantesche nello spazio, come, non so, stazioni in cui vivono centinaia o migliaia di persone, cose del genere. Se vogliamo costruire cose grosse nello spazio, ovviamente non possiamo lanciarle dalla Terra, così non possiamo assemblarle facilmente solo con moduli nello spazio, ma dobbiamo, a un certo punto, saldare nello spazio, prendere cose... Cioè, tutte queste operazioni sono molto complesse, molto faticose, molto lunghe e difficili per gli esseri umani. Però, se riuscissimo ad avere satelliti che assemblano velocemente cose nello spazio e possono farlo senza essere limitati a 6-7 ore di lavoro con delle tute gigantesche in base a quanto ossigeno possono portarsi dietro, queste missioni potrebbero lavorare 24 su 24, costruendo rapidamente, assemblando cose grosse. Quindi un giorno, questo tipo di missioni, che ora vediamo soltanto prendere e spostare cose, potrebbero avere delle braccia robotiche molto più avanzate in grado di fare quello che fanno gli astronauti, ma molto rapidamente. Quindi, che non so, una stazione spaziale, come quelle future, potrebbero avere un meccanico di bordo, che è un robot, e potrebbe essere... Cioè, io me lo immagino tipo Wall-E, no? Con le braccine che stanno nello spazio. E' una delle cose che non ho quasi mai visto, neanche accennato in fantascienza. Invece ha senso, se ci pensate, perché un robot così potrebbe essere lì tenuto da parte e quando serve se ne va, ma anche normalmente, magari una volta al giorno, va e ispeziona la stazione da fuori per assicurarsi che tutto funziona bene. Quindi, se qualcosa si rompe, lui va nella stiva, prende le sue cose, esce fuori, va e ripara quella cosa, e ritorna tutto in autonomia. E sarebbe fantastico. Metteresti meno a rischio gli esseri umani e li utilizzi per cose che, magari, in cui sono più utili rispetto a rischiare la vita soltanto per prendere un bullone, avvitare il bullone, tornare dentro. Quindi, questo potrebbero farlo in futuro il robot. E sarebbe fantastico. Però, ovviamente, dobbiamo arrivarci. E dobbiamo arrivarci senza passare, magari, da una guerra spaziale. Ecco, potrebbe essere di aiuto. Inoltre, volevo chiedervi chi di voi si ricorda ancora chi è, che personaggio è, e di che videogioco, perché ero uno di quelli a cui sono più affezionato. Un abbraccio, a presto!